Ora per molti commentatori quelli che 4-5 mesi fa erano ottimisti sarà semplice commentare un dato storico questo collasso dell'euro rispetto al dollaro di questi giorni e già si iniziano a fare i primi commenti ma sì cosa vuoi che sia ma sì a breve ci sarà una ripresa ma sì cosa vuoi che accada peggio di quello che già sta succedendo io purtroppo insomma ve lo dico da qualche mese a questa parte non sono così ottimista non sono neanche negativo come sapete perché all'interno di questo canale dà un bel po' che diciamo di no collocarsi diversificare anche in questo arco temporale sul dollaro che sarà forte sul dollaro sugli Stati Uniti che stanno facendo di tutto per ammazzare l'Unione Europea e l'euro quindi chi segue questo canale sa che la nostra strategia è sempre win to win ma il punto e la riflessione che vi voglio riportare all'interno di questo mese è che crediamo veramente che sia tutto finito qui tra luce e vino cosa ci aspetta nei prossimi mesi cosa ci aspetta ad ottobre novembre in Europa e quello che ci aspetta che ricadute avrà sulla nostra valuta che ricadute avrà sulle aziende voglio farvi degli esempi concreti ho letto in questi giorni soprattutto sul sole 24 ore senza fare nomi e cognomi che con l'euro così basso rispetto al dollaro le nostre aziende sono più forti a livello di esportazioni ed è vero peccato che c'è un'altra parte della storia economica il petrolio l'energia ci sono beni materie prime che lo Stato Italiano compra in dollari e queste ci costano sempre di più in un momento in cui gas ed energia sono la vera battaglia e quindi e quindi ancora una volta vi ripeto che vanno uniti i puntini e puntini non li uniamo solo all'interno di questo canale ma li abbiamo uniti bene all'interno del canale telegram dove c'è un'informazione più costante ovviamente a cosa mi riferisco beh che i blackout i razionamenti sono un dato di fatto non sono più una previsione bisogna tagliare i consumi altrimenti sarà un massacro altrimenti gli euro escono dalle tasche degli italiani escono dalle tasche delle istituzioni enti e aziende europee e si trasformano in fumo in fumo molto molto velocemente se avete ben compreso gli aumenti che su alcune materie prime abbiamo visto in questi ultimi mesi il dollaro forte in questo arco temporale ragazzi non confondiamo le analisi sul dollaro cioè il dollaro di per sé sta morendo da anni e anni da decine di anni a questa parte il suo valore si deprezza si avvicina allo zero ma in questo arco temporale proprio perché il dollaro si sta avvicinando alla sua morte e poi l'esurrezione vediamo come lo risusciteranno prima di morire lui ammazza gli altri tutto mentre attenzione non è l'inflazione al 2% al 3% mentre l'inflazione ripeto i consumi arriva al 10% quasi al 10% in maniera ufficiale ufficiosamente siamo forse a due cifre tutto questo sta massacrando l'euro i tuoi risparmi mi fanno ancora ridere quelli che io non investo sono lontano dagli investimenti perché quelle cose lì avendo euro in tasca stai investendo decidendo di avere euro hai deciso di investire investire in una valuta le opportunità di diversificazione ma ne parleremo ancora in questi giorni sono tante parleremo anche di quella che la manipolazione in corso su loro e sulle grandissime grandissime opportunità che possono arrivare nei prossimi mesi di fronte all'unico al metallo giallo che di fatto è l'unica moneta suonante toccabile tangibile all'interno di un mondo completamente digitale dove il denaro contante sparisce potrebbero esserci grandi opportunità le strategie all'interno di questo canale le abbiamo detto bisognava seguire archi temporali chi ha seguito strategie di protezione ha seguito gli archi temporali ha diversificato e ha seguito gli archi temporali ora però lasciamo perdere questa parte qui perché è un video di analisi questo capisco che i tanti ottimisti quelli che erano ottimisti alla grande fino a quattro mesi fa ritengono scontato quello che sta accadendo all'euro ma cosa vuoi che sia arriverà a 0,97 adesso fanno 0,95 poi è un rimbalzino cioè non riescono proprio a capacitarsi che essere ottimisti in questa fase vuol dire essere un po rincoglioniti cioè guardare a 360 gradi cosa sta accadendo è semplicemente unire puntini ora io vi faccio una domanda se l'euro dovesse sfondare quota 0,95 perdere l'1 a 1 col dollaro e in ottobre novembre magari inizi dell'anno prossimo nel 2023 ritrovarsi a non lo so lasciamo perdere i prezzi potrei dire 0,80 va bene 0,85 cosa accadrà all'unione europea l'europa sarebbe tecnicamente morta ora faranno di tutto in questo autunno inverno per salvare lo zombie questa valuta senza anima e core l'inflazione continuerà a salire le bollette per le aziende salgono le aziende inizieranno ad implodere le famiglie sono già lì che contano i centesimi perché quello che si spende per andare a riempire quel carrello della spesa è aumentato e quindi che cosa si sono inventati a parte i 200 euro per i redditi bassi lasciamo perdere si sono inventati la transizione verde l'economia green quindi rifinanziare l'economia rifinanziare il debito per trasformare creare questa economia green ora va bene ma i risultati di questa trasformazione noi li vedremo fra 5 siamo ottimisti 10 anni cosa facciamo prima capite che questi zombie stanno di fatto cercando delle scuse come facciamo ad arrivare lì al 2028 al 2030 come ci arriviamo ripeto ripeto faranno di tutto di tutto per salvare l'euro ma attenzione il petrolio si compre in dollari l'euro debole è un buon segnale per l'export italiano ma il petrolio l'energia le materie prime si pagano in dollari tutto costa di più e tutto costerà di più ma come facciamo a pagare questo di più razionamenti blackout bisogna tagliare i consumi altrimenti un massacro spero che voi riusciate a comprendere quello che vi sto dicendo non è una previsione è semplicemente logico e oggettivo siamo nel campo della realtà dei fatti e di fatto in alcune circostanze totalmente impotenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti